Ciao amici di youtube, vabbè sono ancora io che faccio un tutorial che è passato vabbè allora oggi volevo fare un tutorial no guarda vabbè io sono lungo a parlare un tutorial per fare una cassa panca, si lo so che la mamma l'aveva già fatta la cassa panca per i giochi dei bambini però non la voglio fare la cassa panca per i bambini ma la voglio fare per mettere o i vestiti o le scarpe o le scatole delle scarpe, delle barbi perché si non per i giochi anche per i giochi però io la faccio per i vestiti e le faccio solo per i vestiti o le scarpe adesso vi faccio vedere il materiale che ci servirà oggi oggi ci servirà come sempre come sempre il cartone che ho già tagliato mancano dei pezzi perché dovevo per prendere la misura mi servivano tutte le cose montate allora ci servirà dei cartoni che dopo vi dirò le misure le cartone ovviamente con la vinilità come sempre con la a caldo come sempre forbici come sempre oppure taglierini, quelli che uso io un pennelello o qualunque cosa scriva in questo mondo per segnare e un bel righello lungo e adesso soffa ma io non ho ancora deciso se usare questa o se usare questa solo per questa ma mi piace questa quindi devo decidere prima di usare questa allora incominciamo io di quelle misure dico tutto adesso incominciamo incominciamo allora spostiamo tutto che ora mi serve questa ovviamente via 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 faccio cadere tutto faccio tutto pennelello mi serve allora incominciamo con il sotto allora questo questo viene normale no però allora io l'ho fatto così io vi dico le mie misure ma voi potete farlo sempre con le vostre misure potete decidere che misure usare potete farlo gigante potete farlo piccolo potete farlo per e mi parla potete farlo di qualunque misura questo è il sotto la lunghezza che ho fatto io 15 cm per 7 cm questo è il sotto poi ci sono i laterali laterali sono di aspetta che prendo quello giusto laterale 1 perché c'è anche il laterale 2 questo per 15 cm sempre e 10 cm aspettate che risponda ad Alessia ok allora stavo dicendo 15 cm per 10 cm o 10 per 15 cm sono tutti uguali ne ho fatti 4 perché io ho il cartone sottile voi potete farlo così poi c'è il secondo laterale che è di ok aspetta qual è giusto? questo per 10 cm per 7 cm ok adesso io incollo quella con la vinilica e torniamo torniamo perché chi c'è qua torno subito ok incollo tutto allora il sotto il sotto tutto così così tutto incollato sta asciugando questi qua stanno asciugando allora incominciamo a incollare io ho messo le parti tipo venute male all'interno così vedete tipo e mangiato perché con il taglierino sono andata fuori si è tagliato tutto però vabbè questi sono solo dettagli e incomincio a incollare allora qui iniziamo a incollare così perché scappa via se no perché la colla vinilica si mette un po' a asciugare questa non era ancora asciutta bene allora incolliamo ok bene 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 facciamo così ah ma vero si rincopre facciamo così non so se si vede si si vede no non è la parte cioè questo qui è sotto cioè quindi così sto soltanto incollando adesso ok vabbè via vediamo se si rincolate bene allora deve essere così ok ok facciamo una seconda passata qua perché non si sa mai che si stacca si se ne va via tutto se ne va via scappa via vabbè ok vabbè è strapposto adesso attacchiamo l'altra parte che è così invece così così mettiamo la bellissima colla a caldo utilissima perché incolla tutto ok facciamo così recuperiamo quello che è andato sotto e questa volta la facciamo da questa parte bene bene oh mio dio si stava attaccando già ok facciamo così facciamo così e mettiamo oh mio dio non si è ancora scioglietta bene no non si è ancora scioglietta bene vediamo guarda guarda sempre ci vediamo dopo quando finisco di incollare mi stavo dimenticando di spegnere ancora un po ho finito di incollare sta ancora asciugando come lo prendo così è venuto così è incollato è incollato così adesso è finito di incollare meglio sto soltando tutto se mi stupi da vedete vedete non toccate mai questa totalmente subida io ora dovete prendere la misura la vostra misura ovviamente della misura della cartone che dovrà praticamente cioè non si deve appoggiare il cartone questo adesso dopo vi lascio vedere perché non so spiegare non so spiegare che entra a filo entra a filo che cade giù e entra si sta a filo e si incastra si incastra perché dopo vedete adesso prendo le misure perché non l'ho fatto e devo portarla e vi dico sempre un minuto per dire questa cosa le misure le misure sono 14x6,9 perché se facevamo 7 magari si incastrava quindi ho deciso di farlo cioè si incastrava troppo ho deciso di farlo un millimetro in meno cosa è non si vede anche quindi tanto quel pezzo non si deve vedere è soltanto per farlo entrare adesso prendo le misure adesso ne devo fare due sempre io perché si prendo le misure del taglio e sono troppo lunga ok ora che avete fatto questa cosa che ho fatto questa cosa vediamo allora io non ho ancora scherzato ok ok andiamo a vedere se entra adesso se non entra Epic Fail finito male ok entra entra ma c'è questa cartona che mi dà fastidio ma ti devi tornare capito ok vedete no perché ci sono i filamenti del cartone che non mi permettano ok deve entrare capito così però io non lo riuscire a traire ok vedete si deve riuscire a stare così entra entra adesso adesso vi faccio vedere cosa dovete fare di nuovo dovete fare una cosa tipo un cappuccio un cappuccio dretto quindi adesso io faccio le misure facciamo mezzo adesso non so come si dice perché sono imbranata 0,5 di qua 0,5 di là 0,5 di qua 0,5 di qua in più adesso vi faccio vedere perché io non so spiegare bene dovete vedere calmi ho preso le misure di quanto è largo così e sono 15,5 per 8 quindi 15 di qua 15,5 di qua e 8 prima stavo dicendo che dovete allungare di 0,5 di qua 0,5 di qua 0,5 di qua e 0,5 di qua ovviamente 0,5 è uno zero qui più e qui questo in mezzo ma è di poco è così dovete allungarlo di pochissimo è di un coso così perché deve uscire semplicemente deve uscire questi qua poi andranno incollati così almeno ecco è un coperchio un semplice coperchio adesso lo allungo di 0,5 tutto taglio incollo e poi vi faccio vedere come metterlo incollarlo e farlo ok allora le misure che ho preso sono lo ho letto no devo fare questa cosa che mi è uscita sono di 17 per 9 ed è venuto una cosa che già ne ha capito così cioè dovrebbe uscire così capito e adesso noi lo andiamo a mettere allora prima andiamo così a mettere così questo no lo lasciamo qui sperando che non cade dentro vediamo qui mettiamo innanzitutto non so se metterla con la calda però mi comincio a mettere questa come è caduto mi sta uscendo ok no è caduto dietro è caduto vabbè ma niente cercate di trovare il mezzo cioè trovarlo tipo io lo metto adesso faccio un casino credo che sia qui così adesso andiamo a vedere se l'ho centrato bene ok c'è entrato beh si storta perché non è ancora bagnato ok spostiamo questo adesso non so se cade vedete deve venire così così deve venire così aspetto che si asciuga se no si muove tutto si è asciugato ora dovrebbe andare così si muove tutto no ok va benissimo ma perché ci sono i pezzi di cartoni brutti schifosi filamenti ok adesso dovrebbe andare così a incastro infatti si incastra non dovrebbe adesso se se io faccio così cade sono veramente ok però si sta staccando perché è ancora asciugato è ancora bagnato non ci credo ok dovrebbe incastrarsi se non si incastra non va bene questo perché perché è troppo come si dice è troppo grande è troppo grande dovete rimpicciolirlo un po' ok adesso devo scegliere la stoffa vado a scegliere la stossa e taglio un pezzo e vi faccio vedere come incollarla voi non immaginate quanto tempo ci ho messo per tagliare questo pezzo questo pezzo settino perché non è grosso un pochino di stoffa tra la peppa voi non immaginate non lo immaginate allora adesso dovrò tagliarlo di nuovo perché se no come faccio incollarlo allora voi mettete un pezzo grosso di stoffa così incominciate con incollare il pezzo di stoffa adesso non so se ho con la colla caldo qui mi dica la è spenta no magari se no ok mettiamola con la colla caldo centrate in mezzo giusto così voi ok mi piace facerlo così quando posso fare così ok mettete questo così centrate il più possibile in mezzo ok dovrà essere spero di volerlo così benissimo 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 così che potete chiuderlo ok adesso voi dovete tagliare tipo un taglio qui così un taglio qui così non so se si vede così un altro dietro un altro dietro adesso lo taglio e poi vi faccio vedere mi rifiuto a questo adesso ok deve essere adesso facciamo il telefono tagliato qui così qui e anche dietro adesso con la nostra colla caldo se riesco vabbè si riesco perché non so tanto bene lavorare con la stoffa però vabbè ci proviamo se viene male speriamo di no andiamo a incollare tutto tipo qua metto la colla e poi oh mamma e poi tiro su tiro 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 e infilo dentro deve venire così adesso lo incollo vediamo se riesco bene bene pesche auguri incollo e ritorno e speriamo che ci riesco dopo ore e ore di incollare la stoffa a questa scatola per te una scatoletta ci sono riuscita soltanto noi abbiamo ricordato questa cosa qui non riesco a toglierla non si è piattisce toglierla con la carta perché stai lì e mi sono bruciata allora finalmente finalmente allora dentro allora non mi piace parlate parlate però allora fin da qui dentro si vede si vede così un po' incognato sotto vabbè tanto le dice vanno dicendo le cose potete mettere quello che volete dentro o mettere un altro dei listati io non metto niente perché non mi voglio piacere ancora vabbè dopo magari lo lo sistemerò ma tanto l'importante è le specche adesso andiamo a fare questo dobbiamo fare la stessa cosa incontrare della soffa a questo del cartoncino lo stesso procedimento con cui avevo attaccato la soffa qui adesso andiamo a vedere allora qua si è formata una gubetta che non permette di farla appoggiare vedete ma perché una gubetta a me piace lo stesso dove magari insomma gubetta vedete la tiene rialzata qua ma come è formata questa gubetta non si sa vabbè se vi è piaciuto il video mettete like commentate condividete attivate la campanella per ricevere la notifica dei nostri video quando le pubblichiamo ora non mi stai confessando no sto parlando a bassa voce ma mi fa ancora molto eh ma poi mi prendi in giro no perché così no eh ma perché mi prendi in giro sì sì perché non vieni a salutare ciao no vieni ciao vabbè se vi è piaciuto il video mettete like conda condividete ok ciao 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 ciao